Sì, sono pronto, sono pronto mentalmente a giocare qua, ma penso che ancora 90 minuti non posso giocare, per questo che ultimi mesi non ho giocato tutte le partite, ma sono arrivato qua per crescere e su questo momento sono pronto a giocare. Perché negli ultimi 20 giorni ha giocato meno? Perché è stato 10 giorni nazionale adesso? Mi piace giocare come tricartista, ma anche posso giocare tutte le parti, esterno, sinistro, anche secondo la punta. Mi piace questo progetto, qua sono arrivato per giocare, per fare le cose bene, questa squadra gioca davanti, vuole sempre vincere e per me questo è meglio, anche la Fiorentina gioca davanti, gioca bene e secondo me questo per me è il migliore. No, lui ti dice se vado a Empoli farò un campionato a difendermi e le mie caratteristiche vengono meno. Questo chiaramente non è che lo decide il direttore Stefano Antonelli, questo lo lo decide la parte tecnica. Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che per il mister può fare sia il sinistro, perché lui è un destro, non ambidestro, ma preferisce sviluppare la sua giocata a sinistra e può fare anche la seconda punta. Credo che sia stata forse la più difficile in assoluto nostra operazione, perché è? Perché chiaramente si andava a toccare un patrimonio importante della Fiorentina, sia tecnico che economico evidentemente, e i vertici della Fiorentina stessi volevano avere delle garanzie tecniche, altrimenti non si sarebbe fatto nulla. Noi ne abbiamo parlato molto e l'abbiamo assolutamente collocato sia come quarto sinistro alto, ma anche evidentemente come seconda punta. Grazie. 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 Grazie.